Ben ritrovati ragazzi, oggi giorno abbastanza tranquillo tra virgolette in casa Juventus perché stiamo parlando del 28 di aprile quindi intanto buona giornata a tutti e buon venerdì a tutti dai che fine settimana e alle porte domani sarà giorno di vigilia dato che la Juventus giocherà il 30 di aprile al Dallara contro il Bologna sarà una partita sicuramente non facile visto il momento che sta attraversando la Juventus sarà una partita importante dal punto di vista ovviamente della classifica perché dando un'occhiata a quella che è la classifica in Serie A non si può assolutamente rimanere tranquilli non si può tirare un sospiro di solevo anzi bisogna essere abbastanza preoccupati di quello che è l'andamento della Juventus anche in Serie A soprattutto in Serie A nelle ultimissime settimane e in particolar modo da quando è iniziato aprile dove è iniziato un periodo di declino vero e proprio della Juve non dimentichiamoci che la Juventus chiudeva marzo con una vittoria a San Siro contro l'Inter per 1-0 una vittoria sofferta però una vittoria che ci può stare dato che dall'altra parte andava ad affrontare una squadra che era bene o male sulla tua stessa linea d'onda in fase di campionato e comunque anche per quanto riguarda il livello e quello che hanno dimostrato le due squadre in stagione e poi questo aprile ha completamente rovinato tutto per la Juventus e ha migliorato tutto per l'Inter tra l'altro perché è interessante pensare a quello scontro di San Siro e di Serie A dove la Juventus sembrava comunque dare continuità a un periodo positivo in cui comunque le cose giravano bene anche le gambe dei giocatori soprattutto giravano bene dove l'Inter invece andava quasi tutto di traverso ed era difficile immaginarsi una Juventus che andava praticamente davvero a rovinare tutte un Inter che addirittura si proietta in semifinale di Champions League battendo il Benfica che aveva appunto eliminato la Juventus dalla Champions e battendo la Juve e conquistandosi una finale di Coppa Italia che andrà a giocare contro la Fiorentina di italiano che zitto zitto ha portato la viola in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference League quindi con tutto quello che anche con la rosa che ha a disposizione certo qualcuno ieri mi faceva notare il livello delle avversarie che ha affrontato però la Fiorentina sicuramente non è una squadra di altissimo livello dal punto di vista della rosa siccome l'italiano sta facendo un lavoro strepitoso a Firenze ed è uno dei nomi che siccome è più interessante da monitorare non per la prossima stagione ma in generale per la Juventus e forse per il calcio italiano dato che mi sembra un allenatore giovane molto molto giovane credo che sia uno dei più giovani in assoluto in Serie A e che sta raccogliendo degli ottimi risultati e l'Inter invece appunto l'Inter che con tutti i problemi che ha con tutte le critiche relative all'allenatore che secondo me anche meritate perché lato Serie A secondo me qualcosa ancora non gira benissimo per l'Inter però con un tocco di fortuna con un tocco di bravura con quello che volete però finale di Coppa Italia semifinale di Champions League e ora l'Inter insegue per cercare di rubare tra virgoletta la Juventus quella posizione Champions che lo stesso Allegri ha consigliato caldamente ai giocatori di mantenere proprio nei confronti dell'Inter secondo Allegri l'Inter deve arrivare sesta in campionato poi vedremo perché ovviamente noi parliamo lato campo però anche oggi o ieri la Juventus ha consegnato da quanto leggevo le memorie difensive inerenti al processo relativo agli stipendi e vedremo lì che cosa succederà perché poi la Juventus potrebbe andare a ridiscutere forse in un unico blocco sia la questione plus valenza sia la questione stipendi e quindi bisognerà poi arrivare alla termine del campionato secondo me con un buon bottino di punti di vantaggio se si vuol sperare di comunque andare a qualificarsi per la Champions che come vi dicevo l'altro giorno siccome la Juventus non giocherà potrebbero essere motivi legati al campo quindi non arrivi nelle prime quattro potrebbero essere motivi legati alla giurisprudenza italiana quindi magari dei punti di penalizzazione che ti portano al di fuori della qualificazione Champions potrebbe benissimo essere invece una decisione che arriva da Nyon e dalla UEFA con la Juventus che potrebbe essere scusa dalle coppe dato che c'è anche questo rischio quindi se metti insieme tutte queste cose secondo me è molto più facile che la Juventus l'anno prossimo non giocherà le coppe europee piuttosto che o comunque la è estremamente importante cercare di fare il meglio possibile da qui a termine della stagione stiamo parlando di nove partite 10 con un eventuale finale di Europa League per cercare di portare a casa quanti più punti possibili appunto in Serie A ed eventualmente affidarsi agli avvocati le aule del tribunale per capire se ci sarà la qualificazione nelle prime quattro posizioni oppure no e poi portare a casa un trofeo cercare di portare a casa un trofeo che è l'unica cosa bene o male che in questo momento può importare ai tifosi della Juve perché se da una parte da un certo punto di vista guarda il campionato come una sorta di amichevole una dietro a quell'altra dall'altra capisco che invece la Juventus deve cercare di portare a casa dei punti perché semplicemente nell'ultimo periodo non li sta portando a casa e rischia rischia davvero tanto sul campo ragazzi la Juventus sembra voler confermare Allegri ora questa è una non notizia perché è da mesi è da mesi che anche su questo canale continuiamo a ripetere che per la Juventus Allegri è confermato la Juventus in questo momento non si sta occupando dal punto di vista sportivo di prendere delle decisioni lo sta facendo semplicemente dal punto di vista legale perché deve difendere una posizione che è scomoda io sono anche dell'idea però che arrivati a un certo punto la Juve deve muoversi dal punto di vista sportivo e confermare Allegri o esonerare Allegri comunque è una decisione stesso discorso che si faceva tra Monza Maccabi ricorderete periodo non eccezionale beh ora stiamo vivendo quasi siamo lì lo stesso periodo il punto focale del discorso è che la Juventus dovrà cercare di inserire all'interno dell'organigramma comunque un direttore sportivo perché ora non si sta occupando dell'area sportiva la Juventus ma ripeto a un certo punto dovrà farlo non può far passare in secondo piano il piano sportivo per sempre non dimentichiamoci che sì la Juventus è una società è un SPA è quotata in borsa tutto quello che volete per una squadra di calcio in primi se al tifoso quello importa il tifoso deve sapere che ai piani alti comunque della società la Juventus ragione in termini sportivi calcistici perché se è vero come è vero che ormai non ha minimamente un senso logico di cambiare in panchina anche di fronte a questi risultati però al termine della stagione bisognerà sedersi e fare un brainstorming e quindi sentire che la Juventus conferma Allegri punto e che non ci sono dubbi si va avanti con Allegri mi fa pensare che non ci sia intanto proprio la volontà di ragionare dal punto di vista sportivo non ci sia la volontà di ragionare dal punto di vista meritocratico e in terza battuta la domanda che mi faccio è ma dove vuole andare la Juventus cioè la Juventus da qui da oggi dopo due stagioni così dove si immagina lasciando stare e non è facile lasciando stare il piano extracampo però qual è la volontà della Juve cioè Juve che cosa vuole fare perché confermare Allegri per un altro anno significa tra virgolette confermarlo per altri due ci sono altri due anni di contratto poi cosa fai gli paghi un altro anno a casa come hai fatto prima cioè se si vuole cambiare si cambia adesso quindi io non posso accettare che il ragionamento di Juventus sia si va avanti con Allegri perché ha altri due anni di contratto quindi cosa facciamo gliele paghiamo per star fermi sì nel senso se Allegri avesse raggiunto dei risultati io faccio un po' il discorso che facevo per Allegri nel 2019 quando poi si prende la decisione di separarsi in quel caso ricordo dopo la partita con l'Ajax di aver detto queste parole potete vedervele anche su youtube ci sono i video se per cinque anni tu hai lavorato sotto un capo quindi dipendente e dirigente dirigente Agnelli all'epoca dipendente Allegri se per cinque anni la richiesta è stata anche se non è stata per cinque anni ma sicuramente nelle ultime tre annate dell'Allegri 1.0 è stata di provare a vincere la Champions e arrivi al punto che ti prendono pure Cristiano Ronaldo per cercare di fare quel passettino in più e comunque tu la Champions non la vinci anzi Ronaldo fai peggio ci può essere tutto il bene del mondo ci può essere tutto l'affetto del mondo tutta la riconoscenza del mondo però bisogna cercare di fare qualcosa di differente perché all'epoca si è cambiato perché non si hanno raggiunti determinati risultati nonostante tanti anni di permanenza si era fatto bene benissimo dal punto di vista dei confini nazionali si era fatto anche oltre aspettative dal punto di vista europeo nelle prime stagioni e poi però l'obiettivo è diventato dichiarato la parte dell'Ajax che ha iniziato a investire sempre più e ora ci ritroviamo in questa situazione proprio perché siamo stati un po come Icaro che è volato un po troppo vicino al sole con le ali di cera che si sono sciolte ed è precipitato al suolo all'interno del del dedalo una citazione un po così ma va bene e quindi se non raggiungi i risultati è giusto cambiare cioè non è un discorso non ci deve essere vergogna in questa roba qui ci siamo provati non ci sei riusciti allora sarebbe anche diabolico diabolico andare avanti perché errare umano ma è perseverare che diventa diabolico e il tifoso da Juventus oggi non ha prospettive non vede prospettive di crescita perché da Udinese Juventus dell'agosto del 2022 a Inter Juventus dell'aprile 2023 agosto 2021 sono passate 99 partite Allegri non ha mai alzato un trofeo è stato eliminato dalla Champions ai quarti agli ottavi con il Villareal ai gironi l'anno successivo facendo lo score negativo più grande della storia della Juve non è mai stato in competizione per giocarsi lo scudetto ha perso una finale di Coppa Italia ha perso una semifinale di Coppa Italia ha perso una finale di Supercoppa ora vedremo cosa succederà in Europa League ma se prendo due anni quasi perché manca 9 o 10 partite alla termine della seconda stagione di Allegri e metto tutto sul piano è impossibile è mi è impossibile tirare un bilancio positivo e l'abbiamo visto cioè non è partire prevenuti non è parlare a priori lo abbiamo visto è stato lasciato lavorare e questi sono i risultati non è in grado in questo momento di dare quello che servirebbe invece alla Juventus però la domanda è mi confermi Allegri me lo stai facendo perché perché ripeto esonerare o cambiare è comunque una scelta come la metti è una scelta cambi Allegri perché motivazioni quelle che abbiamo detto adesso non si è visto miglioramento i risultati non sono arrivati d'accordo ma se confermi Allegri cioè se confermi Allegri che ripeto è una scelta conferma o esonero sono scelte se me lo confermi allora significa che sei felice di quello che è stato fatto in questi due anni perché se non me lo confermi perché sei felice ci sono altre due strade un appunto sei tra virgolette ostaggio del contratto di Allegri e io non posso immaginare che la Juventus anche in questa situazione precaria difficile possa essere ostaggio di un suo dipendente cioè non posso accettare che la Juventus mi ragioni in questi in questi termini ma sarebbe ancora più grave l'altra perché davvero qua non posso ancora più accettare che la Juventus ragioni in questi termini e cioè riconoscenza quindi amicizia la morte della meritocrazia quindi le strade sono tre quattro esonero di Allegri e cambio dell'allenatore conferma di Allegri perché la Juventus è soddisfatta del lavoro fatto da Allegri e allora qua iniziano a venirmi dei dubbi su su chi mi gestisce la Juventus e mi prende le decisioni Juventus perché non capisco conferma di Allegri perché è troppo oneroso troppo complicato pagargli un contratto da fermo altri due anni di contratto da fermo e non conviene però invece conviene fare altri due anni così in cui comunque il contratto lo devi pagare perché glielo devi pagare e rischi rischi che questi altri due anni possano essere la fotocopia di questi due anni dato che non ci sono più i presupposti dell'Allegri 1.0 sappiamo tutti oppure rimane per riconoscenza per amicizia per conoscenze però non è meritocrazia è una brutta storia all'italiana riassumiamola così quindi questi secondo me sono gli scenari ora dipenderà secondo me tanto da dalla figura che verrà scelta a livello sportivo perché solitamente non prendiamoci in giro è il direttore sportivo che costruisce il progetto sportivo lo dice tutta la parola quindi sceglie l'allenatore e insieme all'allenatore forma la squadra quindi la domanda madre è sempre quella che cosa vuol fare la juventus perché se la juventus oggi mi viene a dire guarda io ti confermo Allegri perché sono convinto di poter fare la stessa roba che abbiamo fatto nell'Allegri 1.0 allora a me va benissimo però io pretendo che questa estate vadano sul mercato con 200 300 milioni di euro e vadano a prendere i nomi più importanti che ci sono perché Allegri con quei giocatori lì e ce l'ha dimostrato è in grado di vincere in italia iniziare a fare dei filotti e fare dei risultati in europa però allora serve raggiungere quegli standard qualitativi di juventus che c'erano all'epoca juventus questa estate è in grado di fare questo per quanto mi riguarda no anzi la considero la più lontana utopia visto che come dicevamo prima forse non giochi la champions forse non giochi le coppe forse il mercato è bloccato forse ci saranno delle multe ora non hai un piano sportivo non stai ragionando dal punto di vista della programmazione la prossima stagione e comunque i soldi ce li hai come dicevamo prima quando hai iniziato a spendere più di quello che potevi poi hai ingolfato il motore e sei andato ad intaccare le stagioni successive a livello sportivo quindi meno acquisti quindi più cessioni e quindi ora addirittura processi che magari poi si risolveranno in nulla di fatto però questi processi hanno intaccato questa stagione e magari intaccheranno anche la prossima quindi per quanto mi riguarda no juventus non può fare questo discorso non può fare questo ragionamento non può andare sul mercato e prendere quei nomi allora la domanda è se non puoi fare questo e la rosa rimarrà questa praticamente dato che il rinnovo di alexandro probabilmente è roba fatta vedremo se rinnoveranno di maria rabbio o quadrado uno dei tre tutti e tre due di tre non lo so zero non ne ho la più palli di idea però magari rimane alexandro magari non rinnova di maria magari non rinnova rabbio magari non rinnova quadrado il tuo mercato sarà tre colpi per andare a sostituire questi e quindi forse addirittura avrai una rosa più scarsa rispetto a quest'anno senza considerare che magari giocatori come vlauvi ci arriveranno a dirti toc toc bayern monaco non c'è l'attaccante il bayern monaco mi ha chiamato il bayern monaco mi offre e tu ti ritrovi una situazione precisa identica spiaccicata con delit l'anno scorso in cui magari sei anche costretto a cedere il giocatore a meno di quanto l'avevi pagato a meno di quanto avevi in mente perché c'è la volontà del calciatore di andare là e c'è la volontà del bayern monaco di mettere sul piatto una cifra che per te non è eccezionale che però ti permette di fare una plusvalenza reale e con il giocatore che vuole andare via sei costretto a cedere quindi bisogna interrogarsi su queste cose qui queste sono le dinamiche vere e proprie che muovono il mercato queste sono le dinamiche vere e proprie con cui si organizzano le stagioni io ho messo in chiaro quali sono i quattro punti secondo me per la conferma per le zone di massimiliano allegri ora invece la palla passa a voi qui sotto nei commenti fatemi sapere se invece c'è un'ulteriore strada che non ho preso in considerazione secondo me non c'è penso di averle dette tutte è un discorso molto delicato è un discorso molto difficile concludo dicendo che secondo me non è che allontanando allegri allora tu hai risolto tutti i problemi perché comunque dei problemi ce ne erano stati con sarri dei problemi ce ne erano stati con pirlo dei problemi ci sono anche con allegri sono diversi tipi di problema però ci sono dei problemi che erano diversi una volta i problemi che sono simili dei problemi che sono proprio incompatibili è ovvio che nel frattempo sono cambiate anche le rose è cambiato il livello della squadra quindi la domanda rimane sempre quella dove si vede la juventus nei prossimi due tre anni e in base a questa risposta allora juventus dovrà prendere delle decisioni che vanno a intaccare l'allenatore e prendere decisioni che vanno a intaccare organigramma e mercato questa è un po la mia lettura